Grazie a tutti. La provincia ci ha informato che nell'incontro avuto a livello regionale i romani si sono impegnati a presentare un disegno di legge che di fatto traghetti entro il 31 dicembre per poi applicare la norma al primo di gennaio. Però siamo di fronte a enunciazioni e io ritengo che la regione su una materia delicata, quella dei rifiuti, non possa improvvisare o camminare a tentoni. Voi chiedete una proroga e chiedete di salvaguardare l'esperienza di Irpini Ambiente? No, noi per la verità non siamo d'accordo ad una proroga. Noi siamo già pronti dal primo di luglio a gestire come stiamo gestendo con la provincializzazione. Questo sì è il nostro punto fermo, i rifiuti. Cioè non bisogna disperdere quello che c'è ma bisogna migliorare quello che abbiamo costruito. Perché quello che è stato fatto è stato fatto in rispetto delle leggi e soprattutto in rispetto dell'ambiente. Dopo le tensioni delle settimane scorse sul fronte dei comuni morosi c'è qualche novità? Non ho notizie precise. Sembra che l'azione di recupero da parte di Irpini Ambiente abbia sortito qualche effetto perché non c'è preoccupazione sugli stipendi. Quindi mi auguro che questa sensibilità continui anche per il periodo successivo.